Vi aspetto il 28 gennaio a Napoli tutta la giornata per il forum dei comuni per i beni comuni. È un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto come amministrazione comunale per discutere dei beni comuni, per discutere delle esperienze dal basso che le amministrazioni comunali stanno facendo. Abbiamo diviso il lavoro in quattro tavoli tematici di grande e di ampio respiro, invitando i sindaci, amministratori locali, esponenti dei movimenti, delle associazioni, delle comunità, dei forum. È molto importante a nostro avviso questa iniziativa per discutere di come si riesce a costruire una democrazia partecipativa dal basso che ha come filosofia di fondo quella dei beni comuni, l'acqua, il sapere, la conoscenza, il mare, il territorio. Dal concetto dei beni comuni nasce un movimento di liberazione e quindi di politica dal basso. È l'occasione anche per discutere, confrontarci e trovare pratiche che possano portare alla costruzione di alternative politiche, sociali, culturali ed economiche a modelli che ormai sono falliti, quelli del liberismo, quella della concentrazione dei poteri che hanno prodotto disuguaglianze sociali inaccettabili. Quindi il tema dei beni comuni è un tema fondante, è un tema costituzionale, è un tema radicato nei territori. Sono certo che alla fine del 28, dopo discussioni, ragionamenti, dopo la passione che ci contraddistingue, saremo tutti più consapevoli, più ricchi dentro di contenuti e magari anche insieme avremmo potuto elaborare un percorso, una strategia per costruire uniti un'alternativa dal basso che metta insieme esperienze virtuose, laboratori, movimenti, esperienze, lotte per i diritti e per il cambiamento.